Apprendiamo con soddisfazione la decisione del Governo regionale di far slittare la data di insediamento del nuovo Consiglio Camerale al prossimo 28 febbraio. Così lo è presente al Parco Commerciale Isole Ible Gianni Corallo, che insieme ad Antica Ibla e Forum di Centri Commerciali vuole evitare l'accorpamento dagli enti camerali di Ragusa, Catania e Siracusa. Per Corallo, da quando si è direniata questa mostruosa idea dell'accorpamento, gli artefici di questo percorso si sono sforzati di farci credere che in questo modo si sarebbero stati benefici di sviluppo per il nostro territorio. Invece lo definiamo l'ennesimo scempio che si sta consumando sotto i nostri occhi ai danni delle imprese e del territorio che hanno fatto la nostra Camera di Commercio una tale più ricca in Italia. Questo accorpamento, continuo a Corallo, determinerebbe soltanto una cosa. Regaleremmo agli altri un patrimonio netto e una liquidità di oltre 20 milioni di euro raggiunto da lusti di gestione parsimoniosa e oculata. In più, come se ciò non bastasse, perderemmo ogni potere decisionale e liberativo essendo nettamente in minoranza il nuovo Consiglio Camerale. A svantaggio quindi del sistema economico ragusano, conclude a Corallo, che è sempre distinto in tutta l'isola.